rispetto agli Stati Uniti, che è evidente che dire esagerato, insomma sì, 28.000 morti, se non è esagerato questo non so che cosa sia l'esagerazione, ma il problema è che gli Stati Uniti in passato hanno fatto altro rispetto a dire, incoraggiare, spingere, cioè ricordiamo, non so, la guerra... Ma come potrebbero convincere? Sospendere gli aiuti militari. Che cosa fece George W. Bush, non esattamente una colomba, 2006 Libano, dopo sei settimane, non quattro mesi, sei settimane, George W. Bush tisse a Israele. Basta, Hezbollah non era certo stata abbattuta, tant'è che ancora oggi parliamo appunto di questa milizia diciamo temibile in Libano. Però questo argomento non...